Un saluto a tutti, quella di oggi è la presa di contatto con il nuovo Samsung Galaxy Note. Prima di parlare del telefono mi prendo qualche istante per portare il nostro primo saluto. Questa è la prima video recensione di PacoDigit.it, il neonato blog, un'idea nata da un gruppo di amici con la comune passione per questi oggetti di alta tecnologia. Nel tempo parleremo di telefonia mobile e di fotografia. Io sono Ivan, magari più avanti conoscerete anche gli altri componenti. Intanto desidero ringraziare Roberto che oltre ad aver partorito con me l'idea del sito lo ha realizzato tecnicamente. Guardiamo il Galaxy Note. Il Galaxy Note è uno degli ultimi arrivati della famiglia Galaxy di Samsung. Un telefono che gira sulla piattaforma Android di Google, in questo caso in versione 2.3.6. Un telefono che a mio giudizio rappresenta un punto di svolta. Va a creare una categoria che non esisteva. Una via di mezzo tra i grossi smartphone e un piccolo tablet. Ciò naturalmente è dovuto alla grossa dimensione del display. Stiamo parlando di un 5,3 pollici AMOLED con risoluzione 1200x800 punti. Dico subito che questo display AMOLED mi piace molto rispetto al passato. Non ho mai amato molto il display AMOLED, ma in questo caso mi sembra che abbiano operato una tarattura più conservativa del colore. Le immagini risultano un po' più fedeli alla realtà, con colori meno sparati. Probabilmente c'è meno enfasi nel colore, ma più realismo. Il telefono è un telefono da quasi 15 cm di altezza, poco più di 8 cm di larghezza. Per sua e per nostra fortuna poco meno di un centimetro di spessore. Il tutto in 178 grammi di peso. Nonostante queste dimensioni è un telefono assolutamente portatile. Non mette più in difficoltà rispetto a un normalissimo smartphone. Nella parte anteriore del telefono, oltre al citato display, troveremo una videocamera frontale che permette di fare videochiamate. La stessa videocamera svolge funzioni di fotocamera da 2 megapixel. Annegato nel vetro troveremo anche sensori di luminosità e di prossimità. Una capsula auricolare. Nella parte bassa troveremo un tasto fisico, un tasto sfioramento e il tasto menu classico di Android. Nella parte destra, come vedevamo prima, tasto di accensione. Purtroppo manca il tasto di scatto della fotocamera. Nella parte inferiore, presa micro USB con funzione di collegamento al computer, ricarica, collegamento al televisore HDMI, funzione host USB. Tramite un piccolo accessorio, il nostro Note potrà essere collegato a delle periferiche esterne, banalmente una chiavetta USB. Qui troviamo il microfono principale e qui l'alloggio per il pennino, che insieme al display rappresenta le novità più importanti di questo telefono. Parte sinistra con il bilanciere del volume, in quella superiore troveremo il jack da 3,5 mm per la cuffia, un secondo microfono per la soppressione dei rumori. Nella parte posteriore del telefono, dominata da questo cover plastico, suggerisco un pochino di attenzione nell'aprile. Il telefono è molto ben assemblato e solido, ma il cover è un foglio di plastico estremamente sottile, un po' d'attenzione. Abbiamo questa fotocamera da 8 megapixel con autofocus, un LED flash. La fotocamera permette anche di girare il video a 1080 punti, quindi full HD, 30 frame al secondo con audio stereo. Nella parte bassa del telefono troviamo l'autoparlante di sistema. Sotto al cover abbiamo scheda SIM, scheda di memoria e la batteria da 2500 mAh. Tornando un momento alla parte frontale, mi è arrivato un WhatsApp, parliamo delle altre caratteristiche del telefono. Andiamo a vedere subito qualche applicazione. Nel mentre vi dico che il cuore del telefono è un processore dual core da 1.4 GHz assistito da 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interni espandibili con la scheda di memoria, Bluetooth 3.0, Wi-Fi. La parte radio è GPRS quadribanda, Edge, OMTS e HSPA+. Quindi scambio dati a 5,76 MB in upload e 21,6 in download. La parte dei programmi. Troviamo il classico gestore dell'orologio e delle sveglie, un calendario veramente ben fatto che è stato personalizzato da Samsung, il lettore musicale, browser internet, controllo della fotocamera. Poi troviamo tutti i programmi che fanno riferimento al pacchetto Google, quindi partendo dalla casella di posta elettronica Gmail, poi avremo il Google Maps, Google Navigatore assistito da un GPS con fix quasi istantaneo. Abbiamo poi questo programma che si chiama Social Hub, una sorta di aggregatore di social network, quindi potremo aggregare in un'unica pagina, in un'unica visione, tutti gli aggiornamenti di stato di Facebook, di Twitter, delle nostre mail, della nostra messaggistica, tutto all'interno della stessa pagina. Troviamo anche un gestore file preinstallato che permette di andare a ricercare o parcheggiare i file nelle loro cartelle di residenza. Troviamo un piccolo editor di immagini, la possibilità di creare video montando degli spezzoni. In questa seconda pagina mi salta subito all'occhio gestione attività. Tenendo premuto il tasto fisico si apre il multitasking, avremo in visione gli ultimi sei programmi aperti, potremo switchare dall'uno all'altro in maniera full mini, semplicemente premendoci sopra. Se premiamo su gestione attività il telefono va a puntare su un programma preinstallato, un task manager, che ci permette di vedere le applicazioni aperte, quante risorse stanno chiedendo al sistema a livello di RAM e di CPU, ci permette di chiuderle singolarmente o di chiuderle tutte insieme. Facciamo così e vengono tutte quante chiuse. Possibilità poi di vedere la RAM libera, la memoria fisica e altri dati. Tornando indietro, andiamo un attimo a vedere velocemente il browser prima che la batteria ci abbandoni. Apriamo il browser, andiamo a vedere la nostra pagina. Siamo sotto copertura HSPA in questo momento. Si sta aprendo la nostra pagina, la velocità di caricamento della pagina è quasi istantanea. Come potete vedere la pagina è stata aperta in modalità mobile. Questo mi dà il gancio per parlare dell'unico difetto, a mio giudizio del browser. Non è impostabile in maniera permanente in modalità desktop. Che cosa vuol dire? Che la rete si accorgerà che stiamo navigando da un telefono cellulare. Quindi ci proporrà di default le pagine mobili del sito che stiamo richiedendo, non quelle desktop normali. Se da un punto di vista questo ci aiuta in una maggiore velocità di caricamento della pagina, dall'altro ci rende difficoltoso leggere alcune notizie. Faccio un esempio, se stiamo consultando il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport, siti che hanno la doppia versione mobile e desktop, il telefono ci aprirà subito quella mobile. Però quella mobile è consultabile solo con un abbonamento. Quindi per andare a vedere la versione desktop dovremo fare uno switch, posto che il sito ci permetta di fare questa cosa, se no avremo delle limitazioni nella visione della pagina. Il problema è facilmente risolvibile con dei browser alternativi. Consiglio vivamente il Dolphin HD dal market. Passiamo allo switch normale della nostra pagina, la versione normale della nostra pagina. Vediamo il nostro pacco digit in versione normale. Funziona senza problemi lo zoom sia con la doppia tappata che con il pinch. Browser che supportano attivamente il flash player in versione full. Il caricamento, come dicevo, è istantaneo, la riformattazione della pagina è velocissima. Ritengo che il livello di navigazione raggiunto dai terminali Android sia diventato veramente eccezionale. Parliamo un attimo del pennino, altro valore aggiunto di questo terminale. Abbiamo alla base di questo pennino un tasto. Vediamo rapidamente un paio di funzioni. Prendiamo il pennino, teniamo premuto il tasto e esercitiamo una prima pressione sul display. Il telefono esegue uno screenshot di quello che stiamo vedendo. Da qualsiasi posizione ci si trovi. In questo caso solo sulla mia pagina start del telefono. Potrei essere sulle mappe, sul navigatore, sul browser internet, su un documento, ovunque. Posso seguire uno scatto della pagina. Come potete vedere ho già qui pasticciato un po' la pagina. Noi possiamo andare a scegliere le caratteristiche del nostro pennino. Possiamo variarne la dimensione, la dimensione della punta intendo. Possiamo addirittura cambiare il colore attingendo a queste palette. E poi possiamo scarabocchiare qui sopra, possiamo prendere appunti. Possiamo dire ci troviamo all'incrocio di due vie. Guarda che bello questo programma. Tutto quello che ci pare. Abbiamo scritto una cosa che non ci piace. Non c'è nessun problema. Prendiamo la gomma e cancelliamo come si fa sui fogli di carta. Vogliamo evidenziare una particolare pagina, parte della pagina. La selezioniamo. Diciamo fatto. E il telefono croppa la pagina. Quindi abbiamo a disposizione la nuova immagine salvata. Possiamo farne quello che vogliamo. O la salviamo o la condividiamo. Possiamo condividerla con la quasi totalità dei programmi preinstallati sul telefono. Tramite bluetooth, parcheggiare nel nostro spazio Dropbox, tramite Facebook, post elettronica, Whatsapp. Qualsiasi cosa ci passi per la testa. Il file è lì a nostra disposizione per essere condiviso. Torniamo un attimo indietro. Riprendiamo il pennino. Premiamo il tasto e facciamo un doppio tap in rapida sequenza sul display. Si apre questa specie di posti. Anche qui possiamo scrivere un appunto. Che poi va condiviso. Stessa cosa possiamo sempre cancellare ciò che abbiamo scritto. Possiamo aprire la nostra tastiera se ci viene maggiormente comodo. E scrivere quello che ci interessa. Questo fogliettino poi potrà essere salvato nel telefono. E anche questo condiviso, utilizzato a nostro piacimento, come agenda, come ci pare. Il pennino ha altre applicazioni che, dico sinceramente, non ho ancora approfondito. Che magari vedremo di guardare con più attenzione più avanti. Bene, direi che abbiamo fatto una panoramica un po' generale di questo telefono. Non voglio in nessuna maniera nascondere il mio entusiasmo nei confronti di questo terminale. Un terminale estremamente reattivo. Sia per quanto riguarda il funzionamento del processore, la gestione della memoria RAM. Veramente è un prodotto che funziona bene. Anche la parte telefonica, che prima non abbiamo visto, funziona bene nella parte radio. Non c'è nessun problema né in trasmissione né in ricezione del segnale. Il passaggio di cella non ha nessuna incertezza. Per quanto riguarda l'interfaccia di gestione telefonica, abbiamo classica tastiera con ricerca intelligente dei contatti. Registri, rubrica, nostri contatti preferiti, creazioni di gruppi. Avrei solo preferito, magari in questo caso, unire il tasto tastiera e il tasto registri in un'unica visualizzazione. Avremmo avuto a disposizione la tastiera e l'elenco delle chiamate fatte. Avrebbe contribuito alla velocità di lettura della nostra pagina. Magari avrei gradito anche una capsula auricolare con un pochino più calda nella riproduzione dei suoni. Il volume è molto alto. Ci sono dei telefoni che mi piacciono di più da questo punto di vista. Andiamo a cercare qualche piccolo difetto. Diciamo che ne isoliamo un paio. Il primo è senza dubbio la dimensione. Il telefono è oggettivamente ingombrante. A mio giudizio non crea nessun problema di portabilità, però non si può negare che sia grande. Il secondo, che è quello che io ritengo un pochino più serio, è l'autonomia della batteria. Non è solo un problema del Galaxy Note, è un problema di tutti i terminali di ultima generazione. Questo telefono ha una batteria da 2500 mAh, quindi è ben dotato da questo punto di vista. Ciò nonostante io faccio fatica a superare le 12 e mezza, la 1 con il telefono acceso. Lo stacco la mattina alle 6 dalla corrente. È vero che faccio 2-3 ore di chiamate al giorno, è vero che ho due caselle in sincronizzazione di posta elettronica, di cui una in push. È vero che navigo parecchio in internet, è vero che uso parecchio WhatsApp. E ultimo e non ultimo ho il telefono che è praticamente sempre connesso al Bluetooth della macchina. Detto questo, pur riconoscendo un utilizzo un po' esasperato di tutte le funzioni del telefono, penso che sia arrivato il momento di inventarsi qualcosa per farli arrivare almeno a sera. Forse si potrebbe rallentare la ricerca di velocità di clock di processori così esasperate che non servono sostanzialmente a niente in questo momento e magari andare a ottimizzare alcuni processi logici di questi apparecchi. Bene, questo è il punto di vista sul Galaxy Note. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Un saluto da Ivan.